Il nostro è un piccolo studio che noi amiamo definire laboratorio, intanto perché non siamo in molti, ci piace avere questa comunanza di idee e di interscambio continuo e per questo ci consideriamo un po' degli artigiani, ci occupiamo di concepso, ci occupiamo di alberghi, ci siamo occupati e ci piace molto farlo di yacht design, di interni, di esterni, qualche volta anche di concorsi di urbanistica. Un po' tutti hanno sicuramente qualcosa di noi e sicuramente qualcosa del committente, di quello che il committente desiderava che ci fosse. Il ruolo dell'architettura è riuscire a creare un oggetto, un edificio, uno spazio che abbia un dialogo, che abbia il potere di essere integrato nel posto giusto, al momento giusto e questa integrazione porta sicuramente un valore aggiunto al progetto stesso. Uno in particolare è quando un cliente ci ha pagato di più di quello che doveva pagarci, che è strano! La copertura di Bellini la cometa perché appunto si instaura in un elemento già esistente e si instaura molto bene. Questo è importante sia come risultato finale ma anche come filosofia, quindi cercare di far collaborare il vecchio e il nuovo.